Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Il Tribunale Supremo di Cassazione di Madrid ha emesso la sentenza definitiva di condanna per Victor Diaz e il Gordo per l'omicidio della giovane padovana. Lo ricorderete sicuramente, parliamo di Federica Squarise. La ragazza venne uccisa nel 2007 mentre era in vacanza a Ioredemar sulla Costa Brava. Per il Gordo, rendono noto gli avvocati della famiglia Squarise, il Tribunale Supremo ha confermato la pena stabilita dal Tribunale di Girone a 16 anni e 3 mesi di carcere per il reato di omicidio volontario più un anno e sei mesi per l'aggressione sessuale. La Cassazione spagnola ha confermato l'applicazione dell'attenuante alla collaborazione. Il Tribunale Supremo ha accolto parzialmente il ricorso della famiglia della giovane, condannando il Gordo al pagamento di 30.000 euro per ognuno dei fratelli di Federica e di 80.000 per il padre e 80.000 per la madre. Con la conclusione del processo penale, spiegano i legali, verrà ora formalizzata l'istanza di richiesta di indenizzo al Ministero dell'Economia spagnolo. E dopo questa vicenda, che è davvero drammatica, continuiamo con un altro fatto che arriva da Padova, dove stamane i carabinieri hanno eseguito un blitz all'interno di un campo nomadi che si trova in città. Sono stati denunciati padre e figlio, ritenuti gli autori di un colpo compiuto in una gioielleria. Blitz dei carabinieri della compagnia di Padova all'alba in via Camanzoni di Padova, dove risiedono alcune famiglie nomadi. È scattata una perquisizione perché c'era sospetto che qualcuno di loro fosse implicato nel colpo messo a segno a piove di sacco lo scorso aprile in una gioielleria. Il fiuto dei militari non è stato tradito. Dalle perquisizioni è saltata fuori parte di refurtiva, ma non solo. I carabinieri hanno trovato anche gli indumenti usati da chi aveva compiuto il furto. Molto utili alle indagini sono state le telecamere di videosorveglianza presenti nel negozio, che hanno permesso di vedere bene le facce e i movimenti degli sconosciuti. Il colpo è stato compiuto da tre persone, due uomini e una donna. Mentre la donna distraeva la proprietaria per farsi sistemare un orologio, i due complici hanno razziato gioielli contenuti in rotoli per un valore di 20.000 euro. Nel blizzi i carabinieri hanno denunciato i due uomini, padre e figlio, mentre la donna è ricercata. A Cittadella questa mattina in provincia di Padova una coppia di coniugi addetta al recupero del denaro dalle macchinette dei videogiochi è stata rapinata. Usciti da un locale con la valigetta contenente l'incasso, davanti ai due si è improvvisamente fermata un punto di colore grigio che li ha di fatto bloccati. In una manciata di secondi dal mezzo è sceso uno sconosciuto che ha sferrato un pugno al volto dell'uomo e si è impossessato del denaro. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno allertato tutte le varie pattuglie presenti. Al momento il rapinatore non è stato ancora identificato ma la sua ricerca continua. Un arresto per droga in città a Padova. In manette un tunisino sorpreso a spacciare. L'acquirente una psicologa che doveva fare un regalo di laurea. Ascoltate. Un tunisino di 20 anni è stato arrestato dopo essere stato pizzicato a vendere ascese in piazza dell'Erbe a Padova. Il giovane era in compagnia di una cliente, non un consumatore tipo ma una psicologa di 34 anni che era andata a comprare un regalo per una sua amica che si doveva laureare. Un regalo insolito, una dose di ascese che al momento dell'acquisto non è certo passato inosservato ai carabinieri della stazione di Prato della Valle. I militari si trovavano in servizio nel cuore della città. Il tunisino ha anche catturato l'attenzione per il modo insolito dello scambio. L'uomo infatti ha afferrato lo stupefacente con la bocca e ne ha strappato un pezzo con i denti. Immediato l'intervento degli uomini in divisa che hanno fatto scattare l'arresto dello straniero. In tasca aveva altri 20 grammi della stessa droga. A Padova i carabinieri hanno arrestato un giovane di Bastia di Rovolonna della provincia di Padova, Mattia De Lorenzi. Il ragazzo è stato fermato in città, in via Sarpi. Durante il controllo dei militari ha dimostrato un certo nervosismo che li ha insospettiti. È scattata quindi una perquisizione dalla quale è emerso che il giovane aveva con sé 50 grammi di ascese. Per lui l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ennesimo episodio di truffa agli anziani, l'ultimo caso nel Padovano, in quartiere Guizza. E rinnoviamo ancora una volta l'appello a non aprire la porta di casa a persone sconosciute, anche se all'apparenza magari si presentano bene. Ascoltate. Le truffe agli anziani non conoscono vacanze e anche in estate continuano senza tregua. Le tecniche sono varie dall'avvicinare la persona fingendo di essere amici del figlio, al falso tecnico di luce e gas, ma non sono mancati i falsi appartenenti alle forze dell'ordine. Tutte persone senza scrupoli che si fingono qualcun altro pura di abusare della buona fede dell'interlocutore e derubarlo. L'ultimo episodio Padovano è stato registrato alla Guizza. Una ragazza ha suonato al campanello di un'abitazione e ha chiesto gentilmente un po' d'acqua. La padrona di casa ha fatto entrare la giovane e dopo qualche sorsata dal bicchiere ha aperto un lenzuolo per farle vedere della biancheria. Il lenzuolo però serviva da separè per coprire l'ingresso a due complici che, nascosti dalla stoffa, avevano il compito di razziare la casa. La padrona però si è accorta del raggiro. Visto che le cose stavano precipitando, le sconosciute si sono dileguate, ma sono riuscite comunque a rubare 400 euro. La donna ha allertato il 113 e sono scattate le ricerche. La polizia ricorda ancora una volta, non aprite la porta a sconosciuti. In caso di dubbi, contattate il 113. Una coda di circa 5 km si è formata stamane a causa di un incidente stradale sulla 4 tra Venezia e Trieste, esattamente tra i casali di Porto Gruaro e La Tisana. Il sinistro si è verificato intorno alle 7, sono stati coinvolti alcuni mezzi pesanti. Fortunatamente non ci sono state vittime, vari disagi al traffico. La coda ha raggiunto i 5 km. Un secondo incidente è avvenuto poche ore dopo, alle 10, sempre nello stesso tratto di autostrada, la 4 tra Venezia e Trieste. Questa volta è stata registrata una coda di 10 km nel tratto tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro. Dopo lo scontro tra due tir, avvenuto tre ore prima in un tratto precedente, come abbiamo detto, questa volta invece sono state coinvolte solo automobili, senza conseguenze per gli occupanti. L'incolonnamento si è smaltito intorno a mezzogiorno. Una discarica abusiva a cielo aperto per 5.000 m2 nella zona industriale di Ioderzo, in provincia di Treviso, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Nella discarica c'erano moltissimi rifiuti speciali, anche materiale privo di protezione superficiale, quindi potenzialmente anche pericoloso per la salute umana. Sono in corso gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità. Estate bollente, crisi economica che incombe e purtroppo pochi soldi in tasca. Molti gli italiani che hanno rinunciato alle ferie, ma chi può cerca l'occasione per andare in vacanza. Abbiamo incontrato un agente di viaggio che ci spiega la situazione e ci dà alcuni consigli. Tempo di vacanze, ma purtroppo anche di crisi. Allora, la gente parte o non parte? La gente parte, sicuramente con tanta voglia ancora di vacanza, anche se nel numero della stagione sicuramente si notano dei grandi cali. Ci sono stati quindi dei cali, ma cosa chiede maggiormente la gente? Cerca di cogliere delle opportunità, delle offerte o giocano d'anticipo? Allora, il Consiglio nostro è sempre stato d'anticipo, in mesi soprattutto importanti come agosto. Purtroppo manca effettivamente quello che era il finanziamento, i soldi. Quindi stanno veramente aspettando speranzosi grandi offerte che però non stanno arrivando, soprattutto per il numero cospicuo di persone che hanno avuto questa illusione in realtà. Ma con il last minute effettivamente si risparmia? C'è da affidarsi? Si può risparmiare qualcosina, però il rapporto qualità-prezzo è abbastanza a rischio, le strutture migliori vengono sempre vendute con ampio anticipo, il rimanente a volte è un po' un rischio e il risparmio molto basso che si può avere non vale il rischio, sinceramente. Siamo alla fine di luglio, magari c'è qualcuno che vuole partire nel mese di agosto, quali sono i consigli che può dare? Nel mese di agosto sicuramente ottima la stagionità del nostro Mediterraneo con tutte le destinazioni bellissime che sono dalla Spagna, la Grecia, le isole. Sicuramente c'è ancora un buon movimento sulla Grecia che causa crisi, ha avuto una partenza un po' più lenta, però sta andando comunque molto bene e chi vuole veramente risparmiare rimangono le destinazioni più classiche tipo la Tunisia e la Croazia che sono il mercato più economico sulla zona. Possiamo anche dire che facendo una vacanza all'estero, magari prendendo un pacchetto tutto compreso si risparmia di più che fare una vacanza in Italia? Direi certamente, un pacchetto tutto incluso, fra volo e trasferimenti, costa quasi quanto un solo soggiorno in Italia. Gli extra che si vanno poi a pagare in Italia non sono decisamente bassi e quindi sicuramente il pacchetto conviene. Nel pieno delle partenze per le vacanze, la Feder Contribuenti lancia la battaglia contro i furbetti delle multiproprietà offerte a prezzi da presunto affare. A denunciare il fenomeno è proprio la Feder Contribuenti Veneto, i cui ispettori hanno compiuto nelle scorse settimane una sorta di missione in Egitto a Sharm el-Sheikh. Ci siamo insospettiti, ha spiegato il Presidente, quando abbiamo visto i cartelli con scritto Compera il tuo appartamento, reddito garantito 6%. In realtà, ci spiega il Presidente di Feder Contribuenti, si tratta di una bufala perché il cliente compra, nella migliore delle ipotesi, una multiproprietà ad un costo di 80-100 mila euro solitamente la cifra è a 99 mila euro, che gli costerà negli anni fino a 5 mila euro di spese per la gestione. Il reddito garantito, ci spiega ancora il Presidente, è per chi mette in piedi queste trappole con la complicità purtroppo a volte anche dei villaggi turistici. Sono 130 mila, secondo l'associazione e la famiglie, che negli anni in Italia hanno comprato multiproprietà. Il 54%, quindi più della metà, oggi non sa più come fare per disfarsene, quindi davvero diventa un grosso problema. In Piazza San Marco, a Venezia, sono presenti hostess e steward che vigilano sul decoro della città. Tante le cose strane che hanno visto, come potete sentire, nel prossimo servizio. Piazza San Marco, in questo periodo, è sorvegliata da alcuni steward e hostess che vigilano sul comportamento corretto dei turisti. Venezia è una città particolare e molti comportamenti non sono ammessi. Niente uomini senza maglia, niente picnic o pranzo al sacco, ma di stranezze i giovani protettori del decoro ne hanno viste tante e le hanno raccontate in un incontro che si è svolto in comune. Un turista è stato sorpreso mentre si tagliava le unghie dei piedi. Un altro è stato bloccato mentre preparava un vero e proprio picnic per tutta la famiglia, disponendo ordinatamente posate, piatti e bicchieri con tanto di babà room per finale. È stata scoperta anche una mamma che lavava il proprio bebè nella fontanella ad altezza Selciato, utilizzata dai piccioni della piazzetta dei Leoncini. Di positivo c'è stato il fatto che i giovani guardian in maglietta arancione hanno scoperto che la stragrande maggioranza delle persone si scusano per l'accaduto, riconoscendo poco educato il proprio comportamento nel salotto buono di Venezia. Lo sciopero dei benzinai indetto per il 4 e 5 agosto è stato rinviato. La prossima settimana si apriranno delle trattative ed è prevista una verifica per settembre e quanto emerso dal tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Questa mattina nella sede padovana di Ali, sponsor ufficiale della Maratoneta Ruggero Pertile, in partenza per Londra, i saluti ufficiali della città. Guardate. È cominciato il conto alla rovescia per la partecipazione come unico italiano alla maratona maschile dei giochi olimpici di Londra di Ruggero Pertile. Il 12 agosto alle ore 12 in Italia Pertile sfiderà i concorrenti. Alla vigilia della sua partenza per l'Inghilterra, il campione di Assindustria Sport Padova ha ricevuto il saluto e un in bocca al lupo dal presidente Francesco Peghin e da Francesco Canella, presidente di Ali Supermercati, marchio che da sempre è vicino e sostiene il grande atleta. Sentiamo come Pertile si sta preparando alla discesa in campo. Lo ha incontrato Enzo Spatalino. Ci fai sognare Ruggero, sei l'unico azzurro della maratona. Complimenti. È un vanto per lo sport padovano, per lo sport italiano e per i supermercati Alin. Sì, mi hanno fatto un buon in bocca al lupo, c'era tanta gente. Essere qui con queste persone che mi hanno sempre sostenuto per me è importante e mi hanno dato la possibilità di fare quello che mi piace, correre. Quindi se sono arrivato a questo traguardo è anche merito loro. Chi temi di più? Sicuramente gli atleti africani sono quelli da battere. Etiopia, Kenya hanno dimostrato di correre molto forte. Però la maratona olimpica è una maratona diversa. Bisogna arrivare motivati, bisogna arrivare concentrati, con quella voglia di portare a casa qualcosa di importante. Io arrivo con queste credenziali e spero di far bene. Dicono che sarai sicuramente il primo dei bianchi e chissà che qualche sorpresa non possa accadere. Noi a Padova tiferemo tutti quanti per te. Beh, in 42 chilometri posso suggerire un sacco di cose. Essere il primo bianco mi farebbe onore, ma i miei obiettivi sono diversi. Quindi conta poco poi lì, se sei il primo bianco, se sei lì, contano le medaglie. Quindi speriamo di fare un'ottima prestazione. Ruggero Pertila in gran forma, animato dalle migliori intenzioni e soprattutto animato da quella che per lui è una grande passione. Il maratoneta, con alle spalle i precedenti grandi successi, fino a non molto tempo fa lavorava come banchista commesso all'interno dei supermercati Alì. Adesso la sua vita è interamente dedicata allo sport e il marchio Alì lo sostiene in tutte le sue performance. Complimenti, commendatore, per quello che lei fa per lo sport padovano e me lo lasci dire quello che fa in particolare per Ruggero Pertile. Il fiore all'occhiello dello sport padovano, della maratona e dei supermercati Alì. Pertile è cresciuto, Ruggero è cresciuto con noi da piccolo così, non era nessuno, l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo visto che era appassionato alla maratona e noi siamo stati felicissimi. Adesso lo operiamo come esempio, anche come noi, come azienda, per crescere, correre e migliorare. E di questo ci siamo grati anche a... Tieniamo ad esempio anche per lui, perché è un ragazzo che ha 38 anni, che è ancora ai vertici del laboratorio, anzi il primo italiano, credo che ci faccia onore a tutti noi, Alì, padovani e italiani. Certo, per quanto Alì possa correre, qualità, prezzo, prestigio, ma farà fatica Canella e Alì a correre dietro a Ruggero Pertile, vero? No, basta correre dietro, naturalmente, con sacrifici, però lui ci ha creato l'entusiasmo che si può crescere. Piero, il tifo per Ruggero sicuramente sarà sentito in famiglia. Sarete uniti nel seguirlo oppure ogni fratello lo seguirà a parte? Credo che ognuno sarà fatica a trovarsi tutti insieme, ma possiamo anche a trovarsi, perché questo non è ancora stato deciso, ma penso di trovarsi tutti insieme, con la famiglia, e fare una grande festa. E su questo mi sono orgoglioso, perché siccome ci conosciamo da tanti anni, ho sempre visto un grande uomo, persona per bene, sempre distillato, roba, eccetera, e senza avere tante altre dose che qualcuno prende, invece lui è sempre una persona seria, da quel lato là. E speriamo che vedano un po' davanti, e chi sia gli altri che curano il paese, io faccio tanti auguri. E in bocca al lupo, grazie mille. In bocca al lupo a tutti. Tra i successi, ricordiamo la vittoria della Maratona di Roma nel 2004, nel 2006 vittoria alla Maratona di Sant'Antonio, e nel 2008 il grande sogno realizzato come campione alla Maratona di Pechino. I successi però sono proseguiti, guadagnando primati anche negli anni successivi, con ruoli da protagonista. Adesso tocca alle Olimpiadi di Londra, e allora good luck, Ruggero. E adesso uno sguardo alla situazione meteorologica prevista sul Veneto. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con un clima caldo, soprattutto fino alla serata di domani. In seguito avremo un aumento della variabilità, soprattutto in montagna, dove saranno più probabili delle precipitazioni. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon fine settimana. Grazie a tutti.